Buongiorno a tutti quanti a voi, buon giovedì, giovedì 11 aprile 2024. Entriamo nella seconda parte della settimana con tante notizie, tanti argomenti davvero dalla politica alla sanità alla cronaca purtroppo e anche a un po' di notizie statistiche diciamo che rivelano e parlano di una realtà, una realtà abbastanza nota ma anche per certi versi abbastanza triste. Parliamo dell'inverno demografico, così viene definito quello che riguarda un po' tutto il Mezzogiorno, un po' la Calabria e un po' in questo caso il Cosentino. Ma ne parleremo, parleremo di questo, parleremo purtroppo anche della tragedia di Suviana, se ne continuo a parlare sia sulle prime pagine dei giornali sia sul web. Poi insomma ci sono anche tanti altri argomenti, la cronaca anche a livello locale, la politica ovviamente si parla di immigrazione e si parla anche di altri provvedimenti strettamente politici ma la politica è protagonista anche in Calabria con le prossime elezioni. Spazio anche alla celebrazione, la festa della polizia della quale abbiamo parlato ieri, ieri ricorrevano i 172 anni dalla fondazione della polizia, ne abbiamo parlato, abbiamo visto le immagini, abbiamo ascoltato anche la voce del prefetto di Cosenza. E poi tante altre notizie che riguardano lo spettacolo, il mondo dello spettacolo, per esempio gli scenari di guerra ma anche lo sport, il calcio perché oggi è l'antivigilia per il Cosenza del turno di Serie B, la vigilia per il Catanzaro perché il Catanzaro giocherà a Modena domani sera nella gara, nell'anticipo serale che apre di fatto il turno del campionato di Serie B. Ovviamente si giocherà anche in Serie A, si è giocato in Champions League anche se non ci sono squadre italiane in questi ultimi due giorni, questa sera invece giocano quattro squadre italiane, due giocheranno contro Milan e Roma, quarta di finale d'Europa League, poi giocherà anche l'Atalanta con il Liverpool mentre in Conference vedremo impegnata la Fiorentina. Questi un po' di argomenti, prima di iniziare ovviamente ad entrare nel vivo non posso non salutare e ringraziare Enzo Leonetti come sempre in regia. E allora iniziamo questa nostra prima pagina dalla prima pagina di Gazzetta del Sud, l'edizione di Cosenza. Abbiamo già fatto riferimento, oggi abbiamo titoli diversi a secondo insomma della zona, aperture diverse, sceglie tre aperture diverse Gazzetta a secondo dell'edizione. In provincia di Cosenza si punta su quello che viene definito l'inverno demografico. Solo rende, non ha mai smesso di crescere, Carpanzano scende a 195 abitanti, pensate un po'. E allora dal 2001 ad oggi si sono persi oltre 63 mila residenti. Stiamo parlando negli ultimi 23 anni praticamente, siamo nel 2024, con una media impressionante di 2.700 persone all'anno che non sono più residenti in Calabria. La provincia più grande continua a prosciugarsi. Dal 2001, secondo l'Istat, nel Cosentino mancano all'appello 63.203 residenti. In pratica si è decomposta una città grande quanto il capoluogo. Ogni anno spariscono in media 2.748 abitanti. Colpa della cicogna. Si legge, 6.23 anni fa si registrava in tutta la provincia e 6.429 nascite in un anno. A inizio 2024, in un anno di scritta l'anagrafe, sono scesi a 4.591. Quindi siamo a quasi 2.900 nuovi nati in meno. Grazie a un complessivo miglioramento del benessere sociale, la vita si è allungata e questi sono i dati sui centenari. Nel 2001, e questa è una buona notizia, diciamolo, erano appena 50. Adesso in tutta la provincia gli over 100 sono 275. Rende è la città che non ha smesso mai di crescere. La sua popolazione in 23 anni è salita di 2.217 residenti. Lievi segnali di ripresa anche sulla costa tirrenica. Notizie cattive giungono invece al comune più piccolo, Carpanzano. In un anno ha perso altri 10 residenti. Ora siamo sotto i 200. sopravvivono 195 persone nel comune di Carpanzano. Bene, questi un po' di numeri significativi che riguardano la provincia di Cosenza. E poi c'è, si parla della strage di Suviana. La strage nella centrale, Vincenzo era papà da tre mesi. Un messinese, vittima dell'esposizione a Suviana, poche speranze intanto di trovare in vita i dispersi. Come sempre poi andremo anche sulle notizie in tempo reale per cercare di capire se ci sono aggiornamenti rispetto a quelli che abbiamo visto praticamente qui e vedremo sulle prime pagine dei giornali. Il Privacy Tour, il viaggio parte da Messina. Oggi il lancio nazionale dell'iniziativa valuta dal Garante tra la Tenea e la stazione, unendo Sicilia e Calabria. Domani l'evento con SES. Salvia stamattina, quindi da Messina, il Privacy Tour 2024, una campagna che è promossa proprio dal Garante per la protezione dei dati personali, che sono ormai quasi una nuova frontiera per tante buone motivazioni. Oggi alle 17.30 alla sezione centrale, la conferenza stampa di inizio del viaggio che unisce Sicilia e Calabria. Mattinata all'Università della Prima Duranza e dello stesso collegio al di fuori della società di Roma. Domani al Teatro Vittorio Emanuele in sinergia col gruppo SES, l'iniziativa Privacy, Informazione e Protezione. Testimonial sono Ficarra e Picone con un videomessaggio che sensibilizzerà sull'uso consapevole del web e delle nuove tecnologie. Vedremo poi quando arriverà di fatto e se arriverà in Calabria direttamente. Altre notizie, Sibaritide, Andrangheda, Spunta, un nuovo collaboratore di giustizia, un nuovo pentito faccapolino nella Sibaritide. Si tratterebbe del proprietario del SUV usato dai killer di Maurizio Scorza e Anene Endli uccisi nel 2022. Era il 4 aprile del 2022 quando nelle campagne fra Castrovillari, fra i comuni di Castrovillari e Cassano, Maurizio Scorza fu ucciso, probabilmente vittima di un tranello, adesso non sappiamo, ovviamente ci sono le inchieste, c'è un'indagine in corso che doveva ricostruire quanto accaduto. è stato ucciso e in macchina con lui c'era anche Anene Endli, la sua compagna, è stata uccisa anche lei, non ha fatto in tempo a prendere il telefono e chiedere aiuto. Sono arrivati i killer che l'hanno uccisa. Ecco, il proprietario del SUV usato dai killer si sarebbe pentito, avrebbe deciso di collaborare con la giustizia. Andiamo adesso con le notizie nazionali, anche se di fatto quella tragedia di Suviana è una notizia nazionale. Nazionale, patto su migrazione e asilo, via libera dell'Unione Europea. Nove provvedimenti che riformano le regole sugli accoglienza, Fratelli d'Italia a favore, no, del Partito Democratico. Principio di solidarietà fra gli Stati membri, l'Italia non sarà più sola. E poi ancora un monito, Mattarella al governo, la libertà religiosa, base della convivenza. Nel giorno in cui si celebra la fine del Ramadan, arrivano le parole del Presidente Mattarella, che interviene dopo le polemiche per la decisione di una scuola di Pioltello di restare chiusa per rispetto alla festività islamica. Intanto arriva dal governo la stretta sui luoghi di culto, libertà religiosa. Però non significa forse chiudere una scuola. Comunque, andiamo avanti con altre notizie. Ok, abbiamo ancora però un... Parliamo di sanità, torniamo un attimo in Calabria. Un bel risultato. Ospedali calabresi, il tavolo ministeriale, approva la nuova rete. E secondo appunto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, che è anche commissario alla Sanità calabrese, si tratta di un bel risultato. Purtroppo non sono belle le notizie che arrivano invece da Gaza, dal Medio Oriente. Tregua, cibo e medicine. Biden insiste con Israele. Uccisa Gaza, tre figli del leader di Hamas. Biden non è d'accordo con l'approccio di Netanyahu riguardo alla situazione nella striscia. Chiedo agli israeliani il cessato del fuoco, consentendo per sei, otto settimane l'accesso totale a cibo e medicine. Ha spiegato, intanto uccisi in un re da Gaza tre figli di Anie, leader di Hamas. Tutti operativi sul campo. Lo spettacolo, Amadeus, aveva già detto che non avrebbe più presentato il Festival di Sanremo, va verso l'addio alla RAI. Sempre più insistenti le voci di un passaggio del conduttore al 9. La battuta di Fiorello è appena salita al colle per dare comunicazione. Ovviamente ci scherza sull'amico e collega Fiorello. Pare che Discovery gli abbia offerto un ricco contratto per un game show quotidiano. Oggi pomeriggio però, insomma, non si parla di spettacolo. Speriamo che ci sia spettacolo anche nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Un super derby, quello fra Milano e Roma, derby dei quarti di finale. L'altra gara, vedrai impegnati invece, che riguarda un italiano in Europa League, Liverpool e Atalanta. Anche lì sarà un grande spettacolo con una delle squadre sicuramente più forti d'Europa, ovvero il Liverpool impegnata contro una squadra che negli ultimi anni ha fatto benissimo davvero in Italia. E poi, alle 18.45, per l'Europa League, il Vittoria Pilsen ospita la nostra Fiorentina. Speriamo bene per le squadre italiane. Questa è la prima pagina della Gazzetta del Sud, edizione di Cosenza, che abbiamo visto. Fra poco torneremo sulle notizie che arrivano dalle diverse province calabresi, ma adesso ci spostiamo su un'altra prima pagina, quella dell'area centrale della Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo, Valencia e la Mezzia Terme. Come vedete, cambia solamente l'apertura e poi le notizie che arrivano appunto dalle diverse zone della Calabria. Allora, il nodo della mobilità, l'apertura su Catanzaro. L'amministrazione ragiona sul Rebus, collegamenti per rilanciare il centro. Gli ordini professionali sollecitano l'inserimento di reti di trasporto e parcheggi nel PSC, che è in fase di redazione. La mobilità è un tema nevralgico nell'ottica della costruzione della Catanzaro Futura. Il nodo parcheggi, il caos del traffico, non l'ora di punta in centro, così come nelle strade principali del quartiere Marinaro. La difficoltà di collegare un territorio frastagliato attraverso i servizi e il trasporto urbano sono tutti aspetti che finiscono per convergere su quello che è un nodo la cui soluzione ha ormai assunto una valenza strategica. Ovviamente gli ordini professionali hanno rilanciato questo tema nella conferenza di pianificazione sul PSC, con una serie di osservazioni sulla necessità che il documento preliminare debba prevedere una pianificazione su parcheggi e viabilità. L'amministrazione, lo ricordiamo, ha spesso dichiarato di puntare su una mobilità urbana sostenibile e capillare. Bene, abbiamo poi le altre notizie che arrivano dalle province calabresi, e ne parleremo fra poco. Ci spostiamo però sulla prima pagina dell'edizione Regina di Gazzetta del Sud per parlare del ponte sullo stretto. Il primo atto fra il ponte ed espropri è sicuramente la pagina più complessa, anzi forse è una delle pagine più delicate, sicuramente è una delle pagine più delicate. La costruzione del ponte, gli espropri, le spiegazioni dei tecnici e poi altre proteste. Nessun indenizzo ci ripagherà. Da oggi lo sportello informativo della Stretto a Villa San Giovanni, ma i tempi della procedura saranno ancora lunghi. L'iter sembra essere entrato nel vivo, è vero, ma i tempi degli espropri per il ponte saranno ancora lunghi. A spiegarlo sono i tecnici della Stretto di Messina, che da oggi, la società ovviamente che si occupa della costruzione del ponte, che da oggi saranno allo sportello informativo. La pubblicazione della lista degli esproprianti, di questa è la prima parte della procedura. 60 giorni dallo scorso 8 aprile per le osservazioni, quindi poi bisognerà attendere che si pronunci il CIPES sul progetto definitivo e la successiva dichiarazione di pubblica utilità da registrare alla Corte dei Conti. Saremo già a settembre, se non oltre, solo a quel punto la Stretto invierà le raccomandate, dando il via alla contrattazione sul valore degli immobili. Se non si raggiungessero accordi sull'indennità, scatterebbero arbitrati e contenziosi, che però non bloccherebbero le procedure. Intanto a Villa si diffonde il malumore fra gli esproprianti. Da Cannitello si fa sentire Franco Platerotti. Nessun indennizzo potrà mai ripagarci. Ci sono persone che da decine di anni ovviamente vivono in queste case. Per quanto concerne la Gazzetta del Sud e l'edizione di Regina, ci ritorneremo fra poco per parlare ancora ovviamente delle altre notizie che arrivano dalle province e dalla provincia Regina. Andiamo però ancora nel Cosentino, perché dobbiamo andare a raccontare un po' di notizie della provincia Abruzia e poi approfondiremo uno che quasi quasi incrocia, quella di Cosenza e quella di Catanzaro, che avrete perché i successi della polizia in tutta la provincia nella costante lotta contro la criminalità celebrata appunto nel Teatro Rendano a Cosenza, la festa della polizia alla presenza di 400 studenti delle scuole. Duri colpi inferti alla criminalità nell'ultimo anno dei poliziotti del questore Giuseppe Cannizzaro che ieri era assente per un problema di salute alla cerimonia. Corigliano Rossano, emessi tre divieti di avvicinamento, una storia davvero triste, oltre ad essere drammatica, maltrattavano un parente disabile, non potranno avvicinarsi a quel loro parente disabile che maltrattavano riempiendolo di botte, tre provvedimenti di vieto eseguiti dai carabinieri. Cassano Ionio, quindi ancora sulla costa ionica, auto incendiata nel quartiere dei Cappuccini, innesima intimidazione, l'altra notte incendiata una Mercedes nel quartiere appunto dei Cappuccini, zona alta di Cassano Ionio. E poi Acri, ecco la notizia che incrocia in qualche modo Cosenza e Catanzaro, la provincia di Cosenza, Acri, ma la manifestazione si è svolta a Catanzaro in difesa del Beato Angelo. La nuova rete ospedaliera non piace ai cittadini di Acri che hanno organizzato insieme al sindaco un'iniziativa alla cittadina regionale in difesa dell'ospedale Beato Angelo, tra l'altro Beato Angelo di Acri è la denominazione che ricorda un santo, un beato, per cui in corsa appunto il processo di beatificazione, adesso non so se sia già diventato comunque Sant'Angelo, credo che ci sia stata già non solo la beatificazione ma anche la santificazione, il processo credo sia concluso con l'avvenuta santificazione di Angelo di Acri. al di là di tutto, però qui stiamo parlando adesso dell'ospedale e di ciò che è accaduto ieri, la protesta di ieri appunto alla cittadina regionale. C'era fra questi anche il sindaco di Acri Capalbo che abbiamo ascoltato. Bene, l'ospedale, la nuova rete ospedaliera, richieste di incontro al presidente commissario Chiuto. Sentiamo il sindaco Capalbo. Abbiamo già chiesto un incontro col presidente, l'abbiamo rinnovato veramente perché ne avevamo già chiesto uno prima della manifestazione che era stata organizzata per il giorno 4. Incontro richiesto da tutta la maggioranza nonché da una parte dei capigruppo di minoranza, quindi da tutta l'amministrazione comunale ad eccezione dei consiglieri di Forza Italia. Il presidente di Regione, secondo me, facendo un gravissimo errore politico, ha preferito incontrare i consiglieri di Forza Italia e non un'intera amministrazione comunale. Oggi noi ci facciamo, siamo qua in cittadella in maniera pacifica, ci facciamo interpreti di quello che è un sentimento di preoccupazione che riguarda l'intera cittadinanza a Crese, che è scesa in piazza in maniera, voglio dire, numerosa, è scesa in piazza non a sostegno dell'amministrazione comunale perché noi non abbiamo dato nessuna connotazione di carattere politico a questa manifestazione. Però è chiaro che quando si vanno a comparare i vari decreti, il primo che è del luglio 2023, il 198 che abbiamo già impugnato e siamo in attesa, impugnato avanti al TAR, siamo in attesa dell'udienza di merito, poi se ne avvicendano altri due, uno il 14 marzo, mi pare che sia il 69, se non vado errato, e poi quello del 26 marzo che è il 78. Sostanzialmente non cambia nulla, Acre passa da 32 posti letto a 26 posti letto, quindi c'è una riduzione dei posti letto sia per quanto riguarda la chirurgia, quattro posti letto in ordinari, erano previsti nel precedente decreto, e due posti letto in medicina. In più manca un anestesista, qualcuno mi dirà che manca personale, però quando c'era il commissario, io non so se il Presidente sia a conoscenza di tutto questo, quando c'era il commissario dell'azienda provinciale di Cosenza, il dottor La Regina, noi siamo riusciti a far venire due anestesisti attraverso un'interlocuzione piuttosto proficua in quescienza. Oggi invece abbiamo un unico anestesista, abbiamo una risonanza magnetica che abbiamo inaugurato il 2018, abbiamo un solo radiologo, dipendiamo dallo spocchi rossano-coriano, non si fanno consulenze esterne, quindi le pronotazioni sono bloccate, abbiamo fatto rilevare che c'è un danno erariale, perché la risonanza della TAC comunque deve rimanere sempre accesa, quindi il costo medio annualmente dovrebbe girarsi attorno ai 40-50 mila euro all'anno senza avere servizi per gli esterni se non per gli interni. Bene, questa è la dichiarazione del Sindaco in relazione alla situazione dell'ospedale di Acre, che si è svolta in protesta, che c'era stata già una protesta nei giorni scorsi ad Acre, questa alla Cittadella, la rete ospedaliere che continua a far discutere e che è stata però approvata, è al tavolo ministeriale, l'abbiamo detto poc'anzi. Protesta a Catanzaro, allora andiamo proprio in provincia di Catanzaro, anzi andiamo nella città di Catanzaro e ci andiamo attraverso la pagina di Gazzetta dedicata proprio alla zona centrale della Calabria. Maestrae, la DDA acquisisce agli atti le lettere dei boss all'avvocato. Il pubblico ministero, Anna Maria Frustaci, ha chiesto al Tribunale di acquisire agli atti le lettere di Luigi Mancusa e Andrea Mantella trovate nello studio dell'avvocato Sabatino. Abramo Printing, il di Castero del Lavoro, ha prorogato i contratti di solidarietà. Il ministero del Lavoro ha prorogato questi contratti fino al 31 dicembre 2024, quindi a fine anno, per i 45 lavoratori della società catanzarese Abramo Logistics. E poi la mezza termine, neurologia d'urgenza, monta la protesta per l'esclusione del Papa Giovanni Paolo II. Nella rete regionale delle emergenze neurologiche non compare l'ospedale Lametino. Il Partito Democratico, ovviamente da forze di opposizione, ma non solo, attacca le scelte del Presidente della Regione Calabria in questa veste commissario alla Sanità, Roberto Occhiuto. Barca con i migranti esplosa in mare. Siamo a Crotone, lo ricorderete, un episodio successo qualche tempo fa, ha chiesto due condanne, qualche anno fa, e il PM ha chiesto una condanna a due anni ciascuno per due finanzieri accusati di naufragio colposo. Andiamo a Vibo Valencia. I fondi per l'inclusione ci sono, ma il Comune è ancora in ritardo. La mancata votazione del fondo per l'inclusione per le persone con autismo accende il dibattito. E questo per quanto concerne le notizie che arrivano dal Catanzarese. Le notizie dal Regino. Reggio Calabria, parcheggi in centro a 2 euro ad ora. È polemica. La sperimentazione da maggio-ottobre in Viale Zervi, piazzale stazionale del Lungomare, Falcomatà, forse dalle Lega, i cittadini non sono bancomat. San Pietro di Carità, città della quale si è parlato in questi giorni per il delitto, o Pedisano, il fascicolo potrebbe passare alla Procura Antimafia. Al momento è in carica la Procura di Palmi, ma c'è questa riflessione, come scrive Gazzetta, fra la Procura di Palmi e la Direzione Distrettuale Antimafia, la DDA. Si valuta un possibile collegamento con l'uccisione di un parente e la vittima avvenuto nel 2022. Intanto arrivano le scuse al giornalista Rai, aggredito. L'omicidio, l'oprete, Mazzaferro condannato a 16 anni di carcere. Siamo a Gioia Tauro, l'uomo reo confesso ha ucciso l'oprete a gennaio del 2023 nell'area di servizio Kuwait sulla Statale 18 perché teme avere torsioni per una vecchia vicenda. Il PM aveva chiesto 17 anni e 4 mesi, ne sono arrivati 16. E poi Bagnara Calabra, bomba all'Eurobet, scoperti dai carabinieri i presunti responsabili. L'attentato intimidatorio a novembre scorso aveva danneggiato i locali dell'Agenzia di Scommesse. Teresa Colludio, siamo a Rizziconi e andrà a sfidare Giovinazzo per la sindacatura a proposito delle elezioni, ufficiale alla candidatura della docente, dirigente vicario dell'Istituto Comprensivo Cittadino. E questa è la prima pagina di Reggio Calabria, di Gazzetta del Sud, edizione di Reggio Calabria. Prima di fermarci per la nostra pausa, poi apriremo la seconda parte con la prima pagina del quotidiano, poi la pagina interna, gli online, altri approfondimenti. Un approfondimento relativo a un qualcosa che è accaduto questa mattina e lo andiamo a scoprire subito. Questa mattina i sindacati CGL e Will, non la CISL, sono scesi in piazza per una protesta. Il lavoro, la sicurezza, precisamente, sul lavoro al centro della protesta. E allora andiamo a sentire con l'intervista realizzata da Gianluca Pasco e Mario Scarpelli, la voce della leader, nuova leader della Will Senese e poi anche il leader della, ovviamente calabrese, della CGL, Angelo Sposato. Sentiamo le parole dei due dirigenti, dei due sindacati che hanno organizzato la protesta di questa mattina. Oggi scioperiamo per un motivo in particolare, per continuare a dire a voce ferma, a voce forte, zero morti sul lavoro. Quello che pretendiamo è l'azzeramento su tutto il territorio nazionale, le misure che chiediamo sono misure abbastanza precise, non solo il potenziamento dell'ispettorato del lavoro, ma soprattutto il potenziamento dell'organico delle aspa. È necessario che gli organi ispettivi lavorino in sinergia per dare un risultato diverso dal punto di vista regionale, ma soprattutto sul piano nazionale. Chiediamo una patente appunti che ricordiamo che nasce dal decreto legislativo dall'81 del 2008, che sarebbe bastato un semplice decreto attuativo per dar seguito a quell'articolo, a quel decreto. Invece oggi continuiamo a registrare una disattenzione sui temi della sicurezza dal governo nazionale, nonostante le strage a cui assistiamo quotidianamente. È inaccettabile, è inaccettabile perché è da tempo che stiamo ponendo il tema della sicurezza sul lavoro come tema prioritario. Aver fatto precarizzare il lavoro in questi anni, reso più debole, sfruttato, sottopagato, ha creato proprio una cultura del disvalore del lavoro e quando c'è il disvalore nel lavoro anche la sicurezza viene meno. Ecco perché in questo momento bisogna ridare qualità al lavoro, fare interventi sulla sicurezza, bisogna assolutamente ritrodurre anche delle norme che in qualche modo creino anche deterrenza contro chi vuole utilizzare il lavoro sfruttato e quindi mettere in pericolo la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi abbiamo detto che serve l'introduzione come reato penale dell'omicidio sul lavoro, abbiamo detto che dobbiamo creare una selezione delle imprese introducendo la patente a punti e poi bisogna fare una grande selezione e le imprese devono avere una responsabilità sociale a non considerare il lavoratore come l'anello più debole della catena perversa degli appalti e dei subappalti. Bene, ovviamente questa notizia la approfondiremo nel nostro telegiornale a partire dalle 14.30 ne parleremo insieme a tanti altri argomenti che pian piano poi scoprirete e noi ci fermiamo perché sono le 13.59 ci fermiamo per la consueta pausa riprendiamo dal quotidiano poi le notizie online altri approfondimenti quindi state con noi ci troviamo fra pochissimo. seconda parte di prima pagina sono le 14.02 quindi andiamo avanti con la lettura di qualche altro giornale poi andremo sui siti inter per capire cosa è accaduto in mattinata altri approfondimenti abbiamo ancora a vedere anche lo sport non solo calcio allora andiamo sul quotidiano del sud così come abbiamo detto con tre notizie come vedete già in primo piano Uber ovviamente parliamo del noleggio con conducente così Uber arriverà in Calabria servizio disponibile da giugno la nuova offerta del noleggio con conducente è pronta dopo un iter davvero travagliato la sanità la rete ospedaliera che occupa ovviamente lo spazio maggiore in questa prima pagina la nuova rete ospedaliera ottiene il via libera dai ministeri approvato il documento che dovrebbe ridisegnare l'offerta sanitaria in Calabria che ha generato tensioni sui territori da Acri a Polistena si ingrossa la protesta e poi Ecolandia ne abbiamo parlato nei giorni scorsi l'incendio a Ecolandia la mobilitazione a sostegno di questa struttura a Reggio Calabria dopo l'incendio appello di intellettuali e associazioni dovrebbe essere prevista tra l'altro anche una manifestazione penso nella giornata di sabato poi il diario della memoria Umberto Mormiere l'educatore carcerario ucciso dal complotto stragista e poi a proposito di stragi una strage purtroppo a noi famosa è quella di Cutro prosegue il processo seguito alla strage dello scorso mese di febbraio le contraddizioni dell'ex agente afgano davanti ai giudici manca l'interprete bene andiamo adesso nel Regino furto di farmaci antitumorali all'ospedale forse per rivenderli all'estero un'altra vicenda che è sicuramente preoccupante questa che arriva dal Regino e poi nel Tribunale di Cosenza ieri nuova udienza nell'ambito del processo seguito all'omicidio Gioffre Mirabelli e il giallo del Cofanetto ricostruiti in aula agli istanti prima dell'aggressione le analisi delle chat e del video e gli accertamenti sui conti svolti dai carabinieri e poi il bilancio disco verde dal Consiglio al bilancio del Comune di Cosenza ieri una nuova seduta del Consiglio Comunale braccialetto elettronico per gli aggressori siamo a Corigliano Rossano la vicenda alla quale abbiamo fatto riferimento prima del disabile che è stato picchiato da alcuni parenti di vieto di avvicinamento a questa persona con il braccialetto elettronico per i tre aggressori questa è appunto la prima pagina del Quotidiano del Sud fra poco vedremo anche le pagine interne del Quotidiano prima però facciamo un salto sui quotidiani online sui siti internet per andare a scoprire cosa è accaduto questa mattina e anche avere diciamo notizie assolutamente più aggiornate andiamo su repubblica.it a proposito di aggiornamenti c'è un'ultima ora storico voto all'Eurocamera passa la risoluzione sull'aborto sia tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea e poi andiamo a parlare di politica Conte a Bari Movimento 5 Stelle fuori dalla giunta Emiliano in Puglia non facciamo sconti alla nostra parte politica frato i anni bisogna azzerare tutto questo dopo quanto accaduto ovviamente da un punto di vista delle inchieste della magistratura anche con un membro di una persona molto vicina a Emiliano che è stato coinvolto ieri in una nuova operazione e Pino Pisicchio a Bari una tangentopoli bonsai ma tanti sono innocenti come i fratelli Alfonsino ed Enzo e poi Basilicata le verifiche dell'antimafia cinque candidati sono impresentabili si va al voto per le regionali in Basilicata e trovati i corpi due dispersi cinque le vittime accertate ovviamente si parla di Suviano e oggi lo sciopero e il corteo a Bologna ma non solo abbiamo già parlato di quello calabrese basta stragi sul lavoro Zuppi parlare meno e fare di più questi anche gli aggiornamenti sulla tragedia della centrale idroelettrica abbiamo già anticipato che nel nostro telegiornale parleremo della protesta e della manifestazione di CGL Will e contro le morti sul lavoro chiedendo maggiore sicurezza e allora di cosa parliamo nel nostro telegiornale ce lo racconta Enzo Leonetti allarga questa inquadratura eccola qua grazie Enzo e troviamo Isabella Roccano ciao Paolo buon pomeriggio a tutti sì morti sul lavoro fatto vedere insomma l'aggiornamento sui dispersi questo diciamo che l'ultima drammatica vicenda ce ne siamo occupati più volte purtroppo la strage è continua e come dicevi tu anche nel corso del nostro telegiornale parleremo della manifestazione di oggi a Cosenza manifestazione regionale di due sindacati Will e CGL intanto arriva anche il nostro direttore Attilio Sabato noi pensavo io ero qualche altra notizia salve a tutti ti hai detto che hai dovuto cambiare la giacca due volte sì vabbè ah questo non lo sapevo perché me la sono persa me la sono persa ok perfetto ecco un piccolo incidente allora lasciamo stare quello che è successo nel nostro telegiornale quello di cui parleremo del nostro telegiornale perché la giacca questa è la notizia dell'apertura del nostro telegiornale l'apertura del nostro telegiornale la giacca insomma capita a volte insomma di sporcarsi però non vuole dire per cosa stava mangiando va bene lasciamo perdere conoscendo la qualche yogurt però dai o caffè oppure il caffè quindi capitano insomma questi piccoli incidenti vabbè chiaramente può capitare assolutamente può capitare a tutti dopo questo scoop invece torniamo non lo sapeva nessuno però grazie al direttore Attilio Sabato noi sappiamo tutto sanno tutti insomma quanto io posso essere maldestra no? prima di andare no no per carità esageriamo dai capita vabbè non è la prima volta comunque vabbè torniamo seri torniamo seri perché davvero ampio spazio dedicheremo a questa manifestazione perché dicevo che i numeri sono sempre più allarmanti una strage continua quindi la protesta dei due sindacati ma anche la proposta che viene fatta al governo per cercare di fermare questa strage tra l'altro la campagna dell'Aguila è lanciata già da qualche tempo e zero morti sul lavoro purtroppo questo zero non lo vediamo insomma ci sono sempre cifre preoccupanti poi parleremo di ambiente andremo a Crotone perché si parla di rifiuti interrati nell'area industriale nell'ex area industriale e anche qui i numeri sono impressionanti davvero impressionanti vi faremo vedere nel corso dei nostri telegiornali si parla di un milione una cosa del genere tra l'altro vi posso anticipare a proposito questa sera una nuova puntata di crimini e parleremo del pentimento ovviamente di Sandokan di Francesco Schiavone e parleremo anche poi ovviamente della vicenda delle rivelazioni anche di Carmelo Schiavone altro cugino dell'oggi famoso Sandokan che è scomparso comunque nel 2015 Carmelo Schiavone e là si parla terra dei fuochi ecco ovviamente anche lì è una vicenda oscura una vicenda davvero drammatica per quelle che sono le conseguenze per la salute qui stavi raccontando in Calabria insomma ci sono delle situazioni davvero preoccupanti allarmanti insomma per la salute se noi parliamo di un milione di rifiuti interrati insomma questo è quello che è stato scoperto però purtroppo sai qual è il problema la mia paura principale non sono i rifiuti che sono stati scoperti a Crotone a Cassane a Cerchiara a Cassane e a Cerchiara sono state fatte anche anni fa opere di bonifica adesso speriamo anche a Crotone ma quelli che mancano all'appello che non si sa dove sono e se ne parla sia per quanto concerne questa questi rifiuti dell'expertusola sia per quella terra dei fuochi pare che qualcosa è stata interrata anche in Calabria a ridosso di Cosenza della Calabria settentrionale soprattutto ma non si sa per non parlare delle navi in mare insomma quello è un altro capitolo giusto per divagare un po' ce ne siamo occupati davvero tante volte le cosiddette navi a perdere siamo stati anche 11 miglia vicino la Cuschi che poi hanno detto che era la Cuschi il suo tempo abbiamo raccontato è la Gioli Rosso nel corso degli anni insomma va bene abbiamo raccontato insomma di queste vicende che purtroppo interessano anche il nostro territorio tornando invece alla cronaca un altro argomento che vi voglio anticipare beh ricorderete quella inchiesta lo scorso mese di ottobre quello scandalo l'annunziata di Cosenza erano stati scoperti all'epoca cinque dipendenti che avrebbero accreato il sistema riuscendo poi a gonfiarsi gli stipendi attribuendosi un bel po' di soldi per cose che in effetti manzioni che non avevano svolto come notturno festivi reperibilità ebbene un'inchiesta che si è allargata insomma che ha coinvolto adesso otto persone l'indagine ovviamente era partita proprio dall'azienda ospedale di Cosenza c'era stata un'indagine interna nei confronti di questi dipendenti poi le carte erano state trasmesse alla procura che aveva delegato all'indagine appunto la guardia di finanza hanno acquisito una corposa documentazione adesso ci sono otto indagati e sono stati sequestrati anche sequestrate queste somme indebitamente percepite appunto da questi dipendenti che adesso sono accusati di truffa ai danni dello Stato ricorderete insomma questo scandalo quindi le indagini sono andate avanti e credo che non si fermeranno qui parleremo di sanità perché c'è l'ok del ministero alla rete ospedaliera della Calabria qualche giorno fa vi avevamo fatto sentire le parole del governatore occhiuto i dubbi che Dutriva diceva io non sono sicuro che sarà approvata la rete ospedaliere invece c'è è arrivato l'ok quindi ecco qua la nuova rete ospedaliere ottiene il via libera dai ministri quindi questo è uno degli argomenti dei quali ci occuperemo nel corso del nostro telegiornale perché la sanità continua ad essere c'è sempre c'è sempre c'è sempre perché la sanità continua anche a suscitare dei malumori diciamolo chiaramente anche la nuova rete ospedaliere insomma abbiamo assistito alle proteste che ci sono stati in alcuni qui si fa riferimento ad Acri Polistena poco fa leggevo una notizia tra l'altro Acri ne abbiamo parlato nella prima parte abbiamo sentito anche un pezzo dell'intervista al sindaco Capalbo ieri nel nostro telegiornale la Mezzia c'è un'altra protesta in corso per questo la sanità è tra l'altro un argomento vicinissimo a tutti noi cittadini il più vicino questo è l'argomento più sensibile più sensibile insomma perché bene o male siamo tutti utenti di questo sistema sanitario e poi vabbè ci sono altre notizie ma poi parleremo di spettacolo tu lo sai che insomma tu non sai che parleremo del Ponte sullo Stretto questo non lo sai questo non lo so non lo sai perché perché non lo sai perché lo può sapere solamente chi ha seguito lo spettacolo al quale facciamo riferimento Lipari ecco lo spettacolo di Lipari da Striscia alla Notizia è stata a Rende lo abbiamo seguito e lui farà un riferimento al Ponte sullo Stretto perché per arrivare in Calabria io da Palermo prendo Palermo Palermo Roma Roma la Mezzia e poi la Mezzia Cosenza per arrivare a Rende la Mezzia Rende ha detto quindi stiamo aspettando il Ponte fra poco lo faranno poi insomma ironizzerà e sentiremo quello che dirà faremo sentire anche sentiremo anche Lipari che parlerà del Ponte parlerà del Ponte va bene poi ovviamente lo sport cioè il Cosenza che apre le porte ai tifosi quindi prepara questa gara contro il Palermo contro il Palermo sabato pomeriggio ti vogliamo anche a te allo stadio San Vito Marula non che passi dalla Via Alemagna a Grecia per fare i tuoi giri no io sabato pomeriggio sarò qui perché ok quindi il servizio curerò il servizio curerò il servizio poi del Cosenza Calcio ma sicuramente ci darà la nostra redazione sportiva Paolo Talarico Anna Franchino Gianluca Pasco insomma sono validissimi giornalisti loro sì io no io faccio altro anche il nostro Paolo Talarico e niente questi sono bene o male gli argomenti dei quali ci occuperemo nel corso del nostro telegiornale vogliamo ricordare alla fine del nostro telegiornale ci sarà diritti negati perché oggi è giovedì quindi nuovo appuntamento con diritti negati con l'Avvocato Rodigliero con i messaggi i messaggi sono già io ne ho ricevuto anche io uno che leggo adesso perché non l'avevo letto prima non me l'era accorto prima perché è impiato qui la segna ho avuto un piccolo incidente mi è sporcata la giacca questo è il messaggio che mi inviata Isabella da sopra sotto però praticamente io non me l'era accorto la comunicazione la comunicazione interna dal direttore ok va bene niente poi alle 15 diritti negati come sempre spazio aperto ai cittadini che come ogni settimana davvero ci danno tanti spunti per tanti argomenti che affronteremo nel corso della puntata messaggi whatsapp al 345 9211 221 questa volta non guardo il monitor perché l'ho appena guardato lo ricordi a memoria è incredibile adesso lo stavo guardando io dopo 30 anni di televisione ancora non riesco a riferire i nostri telespettatori lo posso vedere qui in alto a sinistra in alto a sinistra sul vostro teleschermo c'è il numero 345 9211 221 messaggi whatsapp per Isabella Rocamo per gli ospiti di Isabella Rocamo gli ospiti chiaramente gli argomenti insomma noi vi aspettiamo come sempre 14 e 30 TG 15 diritti negati e adesso continua Paolo e poi altro? poi altro ci sarà frontespizio frontespizio alle 16 e 30 poi l'altra edizione del telegiornale sì crimini questa sera insomma c'è un po' abbiamo davvero un palinsesso come sempre ricco un palinsesso sì poi oggi ci sarà Rosalba oggi Rosalba Baldino sì a frontespizio alle 16 e 30 assolutamente allora tu puoi continuare tranquillamente con la tazzegna grazie Isabella ci vediamo dopo grazie a dopo e allora eravamo rimasti sui quotidiani online siamo andati sulla stampa diciamo a telecamere spente tra virgolette ma l'avete vista probabilmente alle spalle di Isabella Rocamo l'apertura della stampa punto it con Conte che strappa ancora in Puglia via dall'aggiunta regionale di Emiliano e anche a Torino è caos partito democratico il delitto di Aoste è un femminicidio ecco chi era Aurea Natalila uccisa nei boschi di La Salle e poi la strage recuperata il quinto corpo restano due dispersi il numero quindi delle vittime accertate sale a 5 Landini davanti ai morti la CISL assente polemica interna ai sindacati perché sappiamo bene che la manifestazione di oggi in tutta Italia qui a Bologna ma in tutta Italia è stata questa manifestazione aderito la Cigelle e la Will la tragedia di Suviana le esplosioni i subappalti i protocolli di sicurezza le quattro domande ancora senza risposta andiamo velocemente sul messaggero.it perché abbiamo adesso davvero poco tempo allarme FBI elevato rischio potenziale attacche negli Stati Uniti in stile Crocus in Ucraina missile donne russi contro le centrali elettriche tra l'altro vedrete vedrete sul web circolo un video di alcuni in Ucraina alcuni ragazzi che stanno giocando a calcetto parte un bombardamento russo la loro reazione è quella di sdraiarsi per terra fermarsi e giocare sdraiarsi per terra un attimo quasi far vedere come si convive in quei posti purtroppo con la guerra e con tutti i rischi annessi trovati i corpi di quarta e quinta vittima al nono piano sottoterra restano due dispersi quindi siamo a cinque vittime accertate l'inchiesta è a Bari e lo strappo di Conte rimettiamo tutte le deleghe nella regione Puglia e poi Milan-Roma di Bala contro Leao lotta di classe all'argentino vogliamo continuare con De Rossi il bello della Coppa i tecnici promettono lo show e speriamo che sarà show come sarà come è stato anche in Champions League le difese non proprio così brillanti però insomma andiamo avanti con chiudiamo la rassegna stampa online con cui cosenza.it notizie calabresi CGL in piazza a Cosenza per un lavoro più sicuro e una maggiore tutela dei lavoratori a proposito dello sciopero che oggi sta caratterizzando diverse città in Italia ed è da contraltare purtroppo un incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Cosenza schiacciato al muletto è grave un operaio all'ospedale annunziata si lancia tra le auto in corso sulla stradale 106 salvato la polizia stradale siamo nella costa ionica ovviamente sanità ammalata la rivolta gli ospedali declassati Acri e San Giovanni in Fiore danno battaglia e questa è l'informazione che trovate informazione online per chiudere la rassegna stampa online su qui cosenza un punto it e tra l'altro stavo guardando anche la notizia dell'incidente sul lavoro che è avvenuto in provincia di Cosenza abbiamo detto precisamente a Longobuco prima di chiudere prima di passare allo sport vi diamo conto di un appuntamento domani domani pomeriggio ore 17 il parco fluviale del Cardone nuove forme di paesaggio a sud dell'area urbana e si terrà nella sala del consiglio comunale località 30 siamo ovviamente a Casale del Manco alle ore 17 domani pomeriggio vedete tanti davvero gli interventi qualificati al di là dei saluti istituzionali appuntamento lo ricordiamo venerdì 12 aprile quindi domani alle ore 17 a Casale del Manco nella sala del consiglio comunale località 30 dicevamo lo sport calabrese pagina interna del quotidiano del sud Catanzaro all'esame playoff attenzione alta contro una squadra alla ricerca di punti pesanti ne parleremo ovviamente anche nel nostro telegiornale di Catanzaro e di Cosenza snodo cruciale a Modena Vivarini medita ritocchi vista la disponibilità della Rosa e poi lo ricordiamo questo per quanto concerne il Catanzaro che gioca domani sera a Modena nell'anticipo Cosenza Palermo alle ore 16 e 15 di sabato e allora andiamo a vedere cosa accade in casa Cosenza Viali mostra le carte tra l'altro ieri la seduta a porte aperte Guarascio presenta l'allenamento dalla seduta ieri allo stadio San Vito Marulla sono arrivate indicazioni in vista della gara con il Palermo atmosfera tesa c'è da dire anche a Crotone Crotone alla ricerca della serenità dopo l'aggressione vergognosa subita da alcuni giocatori dopo l'aggressione torna il Crotone alla ricerca della serenità dopo l'aggressione subita alcuni giocatori la squadra prova appunto a ripartire nel prossimo turno i Rosso Blu andranno a sfidare la neopromossa Juve Stabia che come vedete dalla classifica si gioca lunedì sera sul campo della Juve Stabia a Castellammare di Stabia ha già 11 punti dall'Avellino che a tre giornate alla fine significa promozione ormai diretta sperando appunto che il Crotone invece possa rimediare tre punti importanti perché le inseguitrici vedete si fanno minacciose inseguitrici per la zona playoff ovviamente che è in questo momento l'obiettivo del Crotone oltre alla ricerca della serenità come abbiamo detto bene ultimi istanti davvero per le prime pagine dei giornali nazionali correre della sera centrale giallo sulle cause si va a parlare della strage di Suviano ovviamente Enel Green Power scelte edite migliori sciopero e polemica dei sindacati scatta l'inchiesta ancora quattro dispersi l'ipotesi e lo scoppio di un alternatore studi classici la sapienza prima al mondo fra le università abbiamo già raccontato ieri e poi l'addio a Paola Gasman le lacrime di Ugo Pagliai io Paola una vita l'Europa approva il patto sui migranti i contrari PD e Lega l'Italia non sarà più sola e parla Ursula von der Leyen e poi in Puglia Bari arrestato un ex assessore di Emiliano andiamo avanti con Repubblica allarmi inascoltati si parla ovviamente della strage nella centrale idroelettrica e idroelettrica i soccorsi per quegli operai giovani e veterani è stato un inferno il patto sui migranti l'Europa si blinda destra e spaccata e poi corruzione in Puglia arrestato l'ex assessore il messaggero migranti le regole dell'Unione europea via libera dell'Europarlamento al nuovo piatto fra i 27 solidarietà obbligatoria impronte digitali per l'identificazione nel rimpatri più veloci corruzione a Bari arrestato cinque arresti tra questi anche un ex assessore ultimo minuto per ovviamente anche i quotidiani sportivi godiamocela sarebbe i quarti di Europa League con il derby italiano questa sera stansiera alle ore 21 tra Milan e Roma provaccio ancora Gasp contro il Liverpool le parole di Tevez ex giocatore della Juventus in Erterramia grande inizio di Yannick Sinner contro Corda vince facilmente l'abbiamo già detto ieri mattina in tempo reale avanza pure Sone che oggi anche Musetti che sfida Giocovic infine Lupi a San Siro non Luci a San Siro ovviamente da una vecchia canzone questo per la Roma impegnata a San Siro Lucio Crovel ciolograffia delusione PSG Lucio sarebbe ovviamente si parla di Luiz Enrique italiano voglia di viola in copp e poi Sinner a tutto gas sotto gli occhi di Sainz bene questo per quanto concerne i giornali di oggi anche per quanto concerne tutta prima pagina io vado via l'estate perché c'è il nostro due giornali e poi tutti gli altri appuntamenti buona giornata a tutti ci vediamo domani alle 13.30 a tutti o